Abbiamo ereditato una situazione complicatissima dalle precedenti amministrazioni, una complessità che l'attuale Giunta sta cercando di gestire nel rispetto della legalità e della trasparenza. Un'operazione verità, quella messa in atto dal sindaco di Molfetta Paolo Natalicchio, che respinge le polemiche scoppiate nuovamente negli ultimi giorni sulla ripresa dei lavori di messa in sicurezza nell'area portuale. L'occasione è quella di una conferenza stampa organizzata nella Sala Giunta del Comune per presentare il nuovo sito web Open Data dedicato proprio al porto commerciale. Un progetto ambizioso, a dire dello stesso primo cittadino, grazie al quale si potrà accedere liberamente ad una serie di dati utili ad accertare lo stato di salute della città. Una banca dati dalla quale sarà possibile scaricare, ad esempio, tutti i progetti legati al porto, notizie sugli interventi di bonifica da ordigni bellici, passati, presenti e future, e tutte le relazioni inerenti al monitoraggio ambientale. Un'opera di trasparenza, come sottolineato dalla Natalicchio, in linea con quelle che sono state le promesse fatte alla cittadinanza in campagna elettorale. La concretezza dei fatti contro l'inconsistenza della demagogia. Il riferimento è al dibattito riacceso recentemente da politici di opposizione, imprenditori e alcuni cittadini, sul ritardo negli interventi di messa in sicurezza e sfociato nella raccolta di oltre 5.000 firme per chiederne l'immediata ripresa. Ma sui tempi di attuazione della nuova area portuale non ci sono ancora certezze. Dopo gli scandali del procedimento giudiziario che ha coinvolto la vecchia amministrazione Azzollini, ha concluso il sindaco, occorre più che mai agire in un'ottica di assoluta legalità. Il progetto c'è e l'amministrazione comunale è pronta a realizzarlo. Ma senza l'ok della magistratura i lavori non andranno in porto. Per migliorare lo stato dell'ambiente.